Sono in Piemonte con l'amico Davide Giordano che mi sta portando da un suo amico e una mitica persona, guida del Monviso, conoscitore del Monviso in ogni suo anfratta e ogni angolo, Clemente Berardo, proprio voglio di conoscerlo, di incontrarlo, di fare un rinforzo nelle sue storie e nel passato verticale di questo pezzo delle Alpi. Tutte le volte che nasce un bimbo è a fare festa, perché sennò il mondo vara vengo. Vara vengo, sì. Adesso sei nel posto più bello di Manta. È solo che sono picchiato dal canalone. Ma che picchiata. È solo arrivando l'inverno, ma dopo l'inverno c'è sempre una primavera, ricordati. a아아 a a a a a a a